andiamo a vedere i titoli della telegiornale false certificazioni e peculato e corruzione sospesa una dirigente dell'asp di siracusa finte manutenzioni in un istituto scolastico e truffa ai fondi europei e è stato sono stati arrestati alcuni imprenditori ballottaggio a siracusa a italia e messina fra accordi e attacchi reciproci si contendono un alloggio popolare in via algeri ma finisce in sparatoria sono la misura cautelare è scattata per cinque persone playoff eccellenza la finale è tra il siracusa vittorioso ieri e l'enna anch'esso vittorioso sono questi i principali titoli del telegiornale che parte tra poco la linea prova alla regia ci vediamo il grande circo orfei fa tappa a floridia spettacolari esibizioni e numerosi animali leoni marini foche pinguini in esclusiva fino al 5 giugno a floridia vuoi acquistare due paia di lenti di diverse idiotrie non comprarne due quello che ti serve sono lenti progressive che adattano la visione a diverse distanze e ottica quartarone propone solo lenti certificate di alta qualità del marchio galileo hai bisogno di proteggere la tua vista in diverse condizioni di luce abbiamo le lenti fotocromatiche transition che diventano automaticamente più scura al sole e se vuoi acquistare un paio di occhiali da sole ricorda che ottica quartarone è esclusivista del marchio rocco barocco a siracusa non vuoi pagare subito nessun problema vieni a trovarci per scoprire come pagare a piccola rata al mese a tasso zero ottica quartarone ti aspetta in viale luigi cadorna 31 33 a siracusa se hai un isee inferiore a 10.000 euro usufruisci anche tu del bonus vista 50 euro una tantum per ogni membro del nucleo familiare qualità professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia il sistema di risonanza magnetica open market 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro Physiorem Medical Center la trovi a Siracusa ben trovati all'appuntamento con l'informazione come avete sentito dai titoli la guardia di finanza di Siracusa ha portato a compimento un'operazione denominata medicina illegale corruzione nella sanità soldi in cambio di una falsa certificazione medica nei confronti un detenuto che sta scontando una pena per omicidio sentiamo i particolari la guardia di finanza di Siracusa con il coordinamento della procura ha dato esecuzione a un provvedimento che dispone la misura interdittiva a carico di una dirigente di una unità operativa dell'ASP di Siracusa indagata per l'ipotesi di reato di corruzione e peculato il provvedimento giunge al termine di indagini svolte dal nucleo di pulizia economico-finanziaria che hanno dimostrato la disponibilità da parte del dirigente medico verso i suoi interrogatori a eseguire un accertamento tossicologico su un familiare accusato di un omicidio e detenuto nella casa circondareale finalizzato ad attestarne falsamente lo stato di tossicodipendenza da cocaina mediante il prelievo di un campione epilifero appartenente a un'altra persona del tutto estraneo all'omicidio la dottoressa si era prestata a redigere una falsa relazione medico-legale allo scopo di far ottenere al detenuto un'attenuazione del regime restrittivo cui è sottoposto o per farlo ricoverare in un centro di recupero per tossicodipendenti tutto ciò è avvenuto mediante la consegna di 4.000 euro in contante quale d'azione correlata al rischio a cui la dottoressa si esponeva personalmente dovendo commettere un atto contrario ai doveri di ufficio e redigere così un documento utilizzando analisi tossicologiche riconducibili a un campione di un'altra persona le indagini hanno consentito di accertare non solo l'ipotesi di istigazione alla corruzione ma anche ulteriori elementi integranti al reato di peculato la professionista al termine di ulteriori visite mediche nei confronti di diversi pazienti aggirando la procedura prevista per le prestazioni intramenia ha percepito le somme pagate dagli stessi circa 3.500 euro senza alcun riversamento alla struttura pubblica contrariamente a quando stabilisce il regolamento dell'ASPE che vieta al medico di ricevere direttamente il pagamento delle prestazioni rese la corretta procedura prevede infatti che il paziente versi la somma dovuta alla struttura pubblica di riferimento la quale in seguito riversa al medico la quota lui spettante sussistendo il pericolo della commissione di altri reati su richiesta della procura e il GIP del tribunale disposto nei confronti della professionista la misura cautelare e interdittiva della sospensione dell'esercizio pubblico, ufficio o servizio o il divieto temporaneo di esercitare la professione medica per la durata complessiva di otto mesi proibendo all'indagata qualsiasi attività Ancora truffe in primo piano stavolta sui fondi europei per la manutenzione all'istituto scolastico Alessandro Volta di Palermo tre imprenditori arrestati Le manutenzioni nell'istituto scolastico Alessandro Volta di Palermo secondo le indagini della procura europea erano spesso sulla carta e non realmente eseguite creando pericolo per gli studenti e quanto avrebbero scoperto i carabinieri del nucleo investigativo che coordinati dai procuratori europei hanno eseguito tre ordinanze cautelari emesse dal GIP di Palermo nei confronti di tre imprenditori edili accusati di reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Ai domiciliari sono finiti Antonino Falcone 55 anni Emanuele Capizzello 65 e Gioachino Gabriele Falcone 30 anni L'indagine Volta condotta da novembre 2021 a giugno 2022 dalla sezione EPPO del nucleo investigativo di Palermo ha consentito attraverso diversi sopralluoghi di verificare i lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'istituto scolastico Alessandro Volta di Palermo I tre imprenditori con un meccanismo collaudato e ripetuto più volte avrebbero effettuato i lavori di manutenzione e ristrutturazione dell'istituto scolastico palermitano attraverso il metodo dei subappalti a cascata e delle fatturazioni false percependo attraverso il risparmio il mancato utilizzo di materiale o la mancata o incompleta realizzazione delle opere contabilizzate in giusti profitti a danno dei progetti di ristrutturazione dell'edilizia scolastica finanziati dall'Unione Europea della sicurezza tecnico-strutturale delle opere stesse nonché quella degli studenti Nel corso delle indagini, secondo gli inquirenti sarebbero stati realizzati i lavori a risparmio eseguiti in alcuni casi artigianalmente da operai non specializzati e senza le relative certificazioni che avrebbero potuto creare pericolo per la sicurezza degli studenti e di tutto il personale scolastico come nel caso delle porte antincendio installate su telai non conformi e con meccanismi di sblocco non efficienti i militari hanno documentato la mancata realizzazione del massetto dei lavori igienici fatturato regolarmente per intero ma di fatto realizzato solo sulla carta così come sulla carta risultava il montaggio di materiale regolarmente spesato e mai consegnato insieme ai provvedimenti cautelari è stato disposto anche il sequestro di 140.000 euro quale quantificazione preliminare dell'illecito profitto parliamo adesso del ballottaggio che ci sarà domenica e lunedì prossimi a Siracusa partiamo da Ferdinando Messina che è uno dei due sfidanti uno dei due in lotta per Palazzo Vermexio il quale allarga la coalizione al gruppo Garozzo e prova a rintuzzare le polemiche in casa di C sull'altare dell'apparentamento si propongono rancori ma esopiti un narciso innamorato di se stesso e di chi accetta senza effettare tutto ciò che vuole fare con questa laconica affermazione Giancarlo Garozzo ha tagliato ogni comunicazione con Francesco Italia soffocando anche il pur flebile spiraglio di un accordo per il ballottaggio di domenica e lunedì in una lunga e articolata nota Garozzo ha annunciato che il suo gruppo sosterrà Ferdinando Messina che già aveva incassato l'adesione di Mario Bonomo nessun assessorato ci interessava detto Garozzo e nessun assessorato abbiamo richiesto e ottenuto ma vogliamo solo tornare a cercare di fare meglio per la città ripristinando anche la democrazia attraverso un consiglio comunale da troppo tempo assente evitando l'all in che Italia voleva garantirsi attraverso una richiesta di supporto che avrebbe addirittura rischiato di pregiudicare l'elezione dei nostri consiglieri di contro continua Garozzo l'approccio umile e rispettoso di Ferdinando Messina nel chiedermi di supportarlo è stato quello di comprendere il mio desiderio di tutela quantomeno dei consiglieri eletti a proposito della mancata presenza di un rappresentante della democrazia cristiana nella squadra assessoriale designata di Garo Messina tengo a precisare che l'ADC non soltanto è componente della coalizione ma a titolo ad essere rappresentata nella città retusea in quanto parte integrante del centro-destra siciliano aggiungo, dice ancora Messina, che nell'attività di governo ci sarà certamente spazio per l'ADC e i suoi rappresentanti così come per tutti i partiti e le liste civiche che mi hanno sostenuto sul fronte di Francesco Italia l'altro sfidante per la poltrona di sindaco la situazione è fluida dopo l'adesione di Edi Bandiera poi la stoccata allo sfidante sentiamo dopo aver incassato l'adesione di Edi Bandiera il sindaco uscente Francesco Italia stuzzica allo sfidante Messina che ha proceduto a zerare gli assessori designati prima ancora che il candidato Messina abbia la possibilità di sedere a Palazzo Vermex come gli spera la sua prima giunta designata non è durata nemmeno un mese questo di Chiara Italia che aggiunge nel tentativo di vincere le elezioni e recuperare il disastro della sua coalizione Messina prova ad applicare una sorta di manuale Cencelli 3.0 probabilmente in base a una sua analisi del voto in città e così tenta di piazzare personaggi nuoti è riferita da alcune frazioni e dall'altra cerca di serrare le fila non essendo riuscito al disastroso primo turno al di là delle valutazioni politiche dice il sindaco uscente c'è un profilo etico di rispetto agli elettori e delle persone designate che farebbero dividire ma che è la cifra di quello che potrebbe rilevarsi un pericoloso ritorno al passato e alle logiche di spartizione prive di qualsivoglia senso del bene comune il candidato a sindaco Francesco Italia qualche giorno dalla conclusione della prima fase dell'elezione amministrativa in vista del ballottaggio dell'11 e 12 giugno analizza il risultato della prima tornata il candidato Messina questo è il riferimento suo ha perso circa 2.800 voti di preferenza mentre io ho preso circa 3.500 voti in più questi miei voti sono arrivati da tutte le liste in maniera trasversale mentre la cosa più grave per Messina è che i suoi ovvero coloro che all'interno dell'otto lista erano candidati nella sua coalizione abbiano deciso di scegliere sindaci differenti fuori dal ballottaggio il partito democratico siracusano affila comunque le armi per fare opposizione con i suoi tre consiglieri comunali eletti il partito democratico siracusano si prepara a fare l'opposizione in consiglio comunale il mancato apparentamento con le liste che sostengono Francesco Italia ha indotto il commissario provinciale Antonio Nicita e gli altri dirigenti a stare alla finestra per il ballottaggio mentre sono rientrate la dimensione del segretario cittadino Santino Romano è Nicita che spiega la posizione del PD indipendentemente dall'esito del ballottaggio dice il PD sarà presente con tre propri eletti uno in più di cinque anni fa Massimo Milazzo capolista che ha trascinato la corsa Sara Zappulla una delle poche donne tra i più giovani membri che sederanno in consiglio Angelo Greco in rappresentanza anche dei tanti giovani democratici nonostante il ballottaggio non ci veda direttamente coinvolti afferma Nicita il relativo esito dei non alteri la rappresentanza del PD in consiglio comunale la collocazione politica del partito in linea con quella regionale e nazionale è sempre di chiara alternativa alla destra la presenza del partito democratico e del consiglio comunale sarà decisiva dice Nicita e consentirà di portare avanti in modo autonomo costruttivo e nell'interesse della città le nostre idee e la nostra visione in continuità con la richiesta degli oltre 10.000 elettori ed elettrici che hanno condiviso la bella corsa e la proposta di Renata Giunta capo della coalizione democratica e progressista aprendo alle tante giovani e fresche energie che ci hanno manifestato il loro entusiasmo e la volontà di andare avanti intanto la cronaca i carabinieri hanno scoperto un episodio avvenuto un anno fa il GIP ha emesso le misure cautelari nei confronti di cinque persone sono accusate a vario titolo di aver gambizzato una persona sullo sfondo di questa storia c'è la compravendita illecita di un alloggio popolare l'illecita compravendita di un alloggio popolare a questo punto fantasma ha portato al ferimento di un 29enne e all'emissione di una misura di custode cautelare nei confronti di cinque persone una storia che vede la doppia vendita abusiva di una abitazione popolare in via Algeria Siracusa l'uomo che è stato ferito con la somma di 3.000 euro aveva comprato a suo dire un'abitazione popolare da una donna che ne è la proprietaria ma la stessa sempre abusivamente l'avrebbe rivenduta ad altre persone per la stessa cifra l'occupante dell'appartamento non ha avuto alcuna intenzione di lasciare la casa anche perché sua dimora agli arresti domiciliari non avendo la possibilità di occupare l'immobile nonostante la somma versata la seconda persona che voleva occupare la stessa casa ha chiesto la restituzione della somma rivolgendosi a uno delle persone coinvolte nella vicenda gli stessi poi si sono recati nell'alloggio e hanno preteso la somma di 1.000 euro da chi lo occupava al suo rifiuto si sono allontanati tornando poi armati di pistole facendo fuoco all'altezza delle gambe del 29enne l'episodio è avvenuto lo scorso anno ma è emerso adesso dopo le indagini svolte dai carabinieri di Siracusa che hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale su richieste la procura retusea nei confronti di cinque persone tra i 20 e 39 anni ritenuti responsabili del fedimento del 29enne avvenuto nel quartiere popolare di Via Algeri e invece a due di loro 19 e 22 anni gli età entrambi già noti in ambienti giudiziari i militari hanno rimanuto e sequestrato una pistola calibro 38 usata per compiere il ferimento nella circostanza il 19enne è stato arrestato perché è ritenuto l'esecutore materiale del ferimento mentre il 22enne è stato denunciato a piedi liberi per aver favorito la fuga del complice a proposito di Carabinieri c'è da dire che l'ha programmato festa per il 209esimo anniversario della fondazione dell'arma qui a Siracusa non si farà al Castello Maniace come era in programma ma si farà questa sera sempre alle 19 ma al teatro comunale viste le condizioni meteo che sono incerte ecco ci siamo allo sport parliamo di calcio e parliamo delle semifinali e dei playoff eccellenza che sono state entrambe vinte dalle squadre siciliane e sarà proprio la finale fra il Siracusa e l'Enna a decidere chi delle due farà il salto in serie D intanto domani alla federazione ci saranno i sorteggi per chi dovrà giocare in casa la prima partita il Siracusa vince anche la partita di ritorno e spugna il solaro di Ercolano e stacca il biglietto per la finale playoff di eccellenza dopo il 3 a 0 dell'andata gli azzurri si ripetono vincendo 2 a 1 in campania avvio difficile per gli arretusei che a metà del primo tempo subiscono il gol dei padroni di casa al diciassettesimo con pesce l'elcolanese sfiora la seconda marcatura ma prima dell'intervallo ci pensa Ficca Rotta a rimettere le cose a posto con un gran tiro da fuori aria facendo gioire i circa 200 tifosi azzuri presenti nel settore ospiti a inizio ripresa Alquin porta in vantaggio il Siracusa chiudendo il discorso qualificazione al triplice fischio di chiusura festa grande per i tifosi siracusani che insieme agli ultra della Juve Stabia presenti in buon numero grazie al gemellaggio tra le due tifoserie nel segno di Nicola De Simone hanno incitato gli azzurri per tutta la partita il Siracusa ha vinto con merito dimostrando nuovamente tutta la sua forza contro un avversario difficile da superare adesso è atteso dalla doppia finale con l'Emna che ha vinto pure il ritorno in trasferta per 2 a 3 contro la promosport La Mezzia il sorteggio per decidere chi giocherà la prima gara in casa tra sette giorni sarà effettuato domani alle 11 negli uffici della Lega Nazionale dilettanti a Roma L'allenatore Gaspare Cacciola l'allenatore del Siracusa ovviamente molto soddisfatto della doppia prestazione dei suoi giocatori contro l'Ercolanese che ha permesso al Siracusa di accedere alla fase finale anzi alla finalissima contro l'Enna lo abbiamo sentito sentiamo le nostre microfono Abbiamo sicuramente disputato le due migliori partite della stagione ne è convinto il tecnico del Siracusa al termine della gara di ritorno vinta in trasferta contro l'Ercolanese Gaspare Cacciola loda comunque la squadra avversaria e tesse parole di elogio anche per la sua società che gli ha messo a disposizione una rosa forte di giocatori adesso testa all'Enna Devo dire nonostante i risultati delle due gare abbiamo incontrato un Ercolanese forte un Ercolanese che è composto di giocatori importanti noi probabilmente abbiamo fatto le migliori partite fin qui della stagione abbiamo capito l'importanza i ragazzi hanno dimostrato grandissimo attaccamento e senso di appartenenza per questa maglia siamo andati in finale probabilmente con giusto merito dedichiamo insomma tutto quello che abbiamo fatto ai nostri splendidi tifosi che anche oggi erano in tanti e comunque ringraziamento speciale alla particolare alla società perché non ci ha mai fatto mancare niente ma ha messo a disposizione un organico importante da dicembre in avanti e adesso ci prepareremo alla finale è stata una grandissima giornata di sport è normale che poi è uno sport agonistico poi in campo è stata battaglia come è giusto che fosse l'emozione già quando siamo arrivati alle due e mezza c'erano i nostri tifosi che già ci incitavano perciò per noi è un'emozione forte la stessa emozione l'avevamo provata in casa nella partita di domenica bene adesso testa quello che sarà il prossimo impegno e adesso la pallannuoto il georgiano Andrea Bitazze indosserà la calottina dell'Ortigia per la prossima stagione di Serie A1 si tratta di un centro boa di 27 anni dal fisico possente sentiamo Andrea Bitazze nella prossima stagione indosserà la calottina bianco verde dell'Ortigia georgiano classe 1997 fisico possente alto 2 metri e 04 per 111 kg di peso Andrea un centro boa molto potente con esperienza internazionale nel 2013 a soli 16 anni lascia la Georgia per trasferirsi in Montenegro allo Giada Nerceg con cui disputa la Euro Cup nel 2015 passa alla Barcelona quindi a Proda in Italia dove gioca per due anni con la Roma Visnova nel 2018 viene ingaggiato dalla Stella Rossa facendo il suo esordio in Champions League e classificandosi secondo in campionato nel 2019 torna in Patria alla Dinamo Tbilisi dove trova i due ex bianco verdi Marco Gelacca e Boris Vapensky giocando per tre stagioni la Champions League e vincendo tre campionati nazionali nel 2022 passa al Panionios con cui conquista il quarto posto in campionato gioca la Champions e arriva in semifinale di Euro Cup nella stagione appena conclusa ha realizzato 23 gol in Champions League 5 in Euro Cup e 48 nel campionato greco Bitazze vanta anche una lunga esperienza nella nazionale georgiana iniziata nel 2012 con le formazioni giovanili con la nazionale assoluta di cui è ormai un punto fermo ha disputato tre campionati europei una Super Final World League e una World Championship contestualmente l'Ortigia saluta Petar Velkic che lascia dopo un anno ricco di soddisfazioni Termina qui il telegiornale vi ringraziamo per averci seguito fin qui appuntamento alle prossime edizioni intanto buon proseguimento per i nostri programmi c'è un punto fermo con le formazioni che fai con le formazioni che fai riportare con le formazioni delle formazioni e con le formazioni Grazie.